Da gennaio, servizio anche a domicilio. Diminuire l'impatto ambientale delle politiche agricole per aumentare la sostenibilità delle produzioni. E questa è la grande sfida accolta dalla Fondazione Foglianini, che in questi giorni ha ospitato tre grandi studiosi nell'ambito vitegnicolo. Si tratta di Michele Morgante, direttore scientifico dell'Istituto Genomica Applicata, Gabriele Di Gaspero, ricercatore universitario, e Danna Chiara Danieli, presidente dell'Istituto di Genomica Applicata. Il gruppo, che da anni lavora nell'ambito della genomica per il miglioramento genetico della vite, collaborerà attivamente con la Fondazione Foglianini, a vantaggio della valtellina viticola nel campo della ricerca genetica e del branding viticolo. Come primo risultato noi abbiamo completato la decodifica della sequenza genoma della vite dieci anni fa e poi a seguito di quella abbiamo fatto una serie di ricerche che ci hanno consentito, ad esempio, di identificare alcuni dei geni che conferiscono la resistenza per un ospero idio. Abbiamo poi usato questa conoscenza per produrre attraverso metodiche tradizionali di incroce e selezione dieci nuove varietà di vite da vino che sono state rilasciate lo scorso anno e che sono resistenti a per un ospero idio. Queste rappresentano in dubbio innovazione perché consentono di diminuire notevolmente l'utilizzo di prodotti chimici nella viticoltura, hanno la limitazione che essendo state ottenute da incrocio oppure partendo da varietà già largamente utilizzate come il Merlot, il Savignon e il Toccai Friulano non sono le stesse varietà da cui siamo partiti e quindi, ad esempio, non possono essere utilizzate per produzioni come le DOC e le DOCG. Noi quello che adesso proporremo di fare, proprio per la viticoltura italiana che si fa forte di tradizione e qualità, è proporre di migliorare le varietà già esistenti, questa volta non ricorrendo all'incrocio, bensì ricorrendo all'utilizzo di metodiche nuove di miglioramento genetico che sfruttano le conoscenze che derivano dalla biologia molecolare e che ci permettono di inserire esattamente gli stessi geni di resistenza che abbiamo già utilizzato attraverso gli incroci dentro le varietà tradizionali come potrebbero essere il Merlot, il Cabernet ma anche il Nebbiolo nel caso della Valtellina. Questo consentirebbe di continuare a produrre i vini che fanno così forte la nostra viticoltura e anche quella della Valtellina, ma di non dover ricorrere all'utilizzo di prodotti chimici per controllare le infezioni dei patogeni fungini. Un cammino che, come tutte le competizioni, richiederà fatica e dedizione, ma al traguardo sarà importantissimo, garantire la qualità senza danneggiare ulteriormente l'ambiente. Grazie. Grazie.